Buongiorno ragazzi, in questo secondo capitolo continuiamo la disamina della società della prima metà del XVI secolo, questa volta occupandoci di questioni attinenti alla religione. È il periodo della riforma luterana e della controriforma cattolica. Andiamo a vedere quali sono i presupposti che danno il via a questo sconvolgimento. La chiesa cattolica all'inizio del XVI secolo mostrava i segni di una grave decadenza, era molto più legata agli interessi materiali e sempre meno a quelli spirituali, occupandosi più di politica e di economia piuttosto che di religione. Inoltre, dal punto di vista morale, la condotta degli alti prelati, dei vescovi e degli abbati era abbastanza scandalosa, infatti praticavano diffusamente il concubinato, ossia la convivenza con una donna, concubinato viene dal verbo latino concubare, cioè dormire insieme, per cui venivano meno all'obbligo del celibato. Inoltre, tendevano ad accumulare i benefici ecclesiastici, cioè le cariche e i privilegi ecclesiastici, che si andavano accentrando nelle mani di sempre meno vescovi e altri prelati. Il Papa, inoltre, voleva fare della Curia Romana, della Curia Papale, la più splendida capitale d'Europa, quindi cominciò un'opera di ricostruzione di Roma, dando inizio anche alla ricostruzione della Basilica di San Pietro. Il Papa vendeva, come abbiamo detto, ai vescovi i benefici ecclesiastici, quindi i vescovi si trovarono ad accumulare nelle proprie mani più diocesi, più territori e quindi più tasse che provenivano da questi territori. Per recuperare i soldi dell'acquisto di questi benefici, il Papa suggerì, soprattutto ai vescovi tedeschi, di organizzare una vendita delle indulgenze. Cos'è l'indulgenza? L'indulgenza è il perdono dei peccati. Quando un cattolico moriva, andava in purgatorio, dove scontava per un periodo i suoi peccati sulla terra attraverso delle pene, per poi andare in Paradiso. Ecco, acquistando, quindi comprando le indulgenze, avrebbe acquistato l'accesso diretto al Paradiso. In realtà tutti questi soldi servivano per finanziare la riedificazione di Roma, e particolarmente la cupola della nuova Basilica di San Pietro. Ovviamente non tutta la Chiesa era d'accordo con questo squallido commercio, e proprio dalla Germania partì il movimento di rivolta a questa situazione. Nel 1517 il monaco tedesco Martin Lutero affisse alla porta della cattedrale di Wittenberg le 95 tesi che condannavano la corruzione morale degli uomini di Chiesa e non li consideravano più degni di rappresentare Dio, trasmettendo ai fedeli il messaggio che solamente la grazia di Dio poteva salvare l'uomo dall'inferno e dal purgatorio e non certo l'acquisto delle indulgenze. Il Papa condannò immediatamente le tesi luterane. Vediamo chi era questo Martin Lutero. Era un monaco agostiniano, molto esperto di sacre scritture, aveva studiato tanto, che nel 1510-1511 si era recato a Roma, rimanendo scandalizzato dalla ricchezza e dal lusso diffuse in questa città. Lutero non si spaventò certo della condanna del Papa. Nel 1520 pubblicò quattro libri che illustravano la sua nuova dottrina. Mentre secondo la dottrina cattolica, per giungere alla salvezza eterna, si poteva giungere o per grazia di Dio o per le buone opere, le buone azioni, e quindi anche grazie all'acquisto delle indulgenze, Lutero diceva che l'uomo è in grado di salvarsi solo grazie alla sua fede. Cioè Dio già stabilisce chi deve andare in paradiso. L'uomo non può far altro che avere fede per salvarsi. Inoltre, nella Chiesa, l'interpretazione delle sacre scritture è riservata al clero. Infatti, le sacre scritture sono scritte in latino, lingua sconosciuta ai più. Per Lutero, invece, ogni fedele è libero di interpretare le sacre scritture, divenendo in questo modo sacerdote di se stessi. Quindi predica il sacerdozio universale. Infatti, nella Chiesa riformata, i sacerdoti vengono chiamati pastori, sono le persone più anziane, più colte, che in qualche modo educano e rendono dotti anche i fedeli, meno colti e meno preparati. In campo politico, Lutero predica la divisione tra l'aspetto politico e l'aspetto religioso. La Chiesa deve occuparsi solamente della religione. Per quanto riguarda la sfera politica, i fedeli devono affidarsi alle autorità civili. Inoltre, Lutero riconosce solo due sacramenti, il battesimo e l'eucaristia, che sono gli unici due sacramenti menzionati nelle sacre scritture. Per rendere più accessibile le sacre scritture al popolo, Lutero completerà nel 1534 la traduzione della Bibbia in lingua tedesca. Il Papa, allora, nel 1521, invita l'imperatore Carlo V, difensor fidei, cioè difensore della fede in terra, a convocare la Dieta di Worms. La Dieta è un'assemblea indotta dall'imperatore. In questa assemblea, l'imperatore invita Lutero per abbiurare la sua dottrina, cioè per sconfessare la tua dottrina. Lutero, invece, si difende e non ritratta le sue tesi, al che Carlo V lo bandisce dall'impero, lo caccia dal suo impero e Leone X lo scomunica. Lutero, però, beneficia della protezione del principe Federico di Sassonia, che lo ospita nel suo castello di Wartburg, dove Lutero si dedica alla traduzione del Nuovo Testamento. Ma quale motivo avevano i principi tedeschi nel difendere Lutero? Avevano tre tipi di motivazioni. Una politica, cioè se loro cambiavano fede, lasciavano la fede cattolica e abbracciavano la fede luterana, non avevano più vincoli di obbedienza nei confronti dell'imperatore, che era il difensore della fede cattolica. Le motivazioni ideologiche, cioè la religione di Lutero, predicava la divisione tra politica e religione, quindi spingeva i fedeli ad obbedire ai principi. E le motivazioni economiche, nel senso che sconfessando la religione cattolica, potevano riappropriarsi dei beni allora in mano ai vescovi. Furono chiamati protestanti perché nel 1529, durante la dieta di Spira, essi protestarono contro la religione dell'imperatore che impediva ai riformati di professare la loro fede, di cui viene il termine protestanti. La riforma luterana provocò anche degli sconvolgimenti sociali, delle fasce della popolazione che vivevano in condizioni miserevoli e che avevano qualche malcontento, approfittarono dello sconvolgimento per ribellarsi. Così fecero nel 1522 i cavalieri, che erano i figli cadetti della piccola nobiltà, che guadagnavano dall'esercizio della guerra. Una volta introdotti nell'esercito le compagnie di ventura, cioè i mercenari, loro avevano perso molti soldi. Quindi, approfittando del messaggio di Lutero, assaltarono chiese e monasteri per derubarne le ricchezze. Lutero condannò questa rivolta e fece trucidare i cavalieri. Nel 1524 i contadini tedeschi, guidati dal predicatore Thomas Münzer, approfittando della riforma luterana, richiedevano la riduzione e l'eliminazione delle tasse. Lutero temette con questa rivolta di perdere l'appoggio dei principi, quindi autorizzò il massacro. Münzer fu decapitato e 100.000 riberdi furono sterminati. Infine, nel 1533, la rivolta degli anabattisti, ossia ribattezzatori, che rifiutavano il battesimo impartito da neonati, autorizzandolo solo da adulti, avevano occupato la città di Münzer, cacciando il vescovo e le autorità. Questa città fu soprannominata Nuova Gerusalemme, furono abolite la proprietà privata e le strutture sociali, compresa la famiglia. Il pericolo di questo sovvertimento dell'ordine tradizionale convinse Lutero a chiedere la soppressione nel sangue anche di questo movimento. Lutero era un rivoluzionario, un riformista, ma non voleva che la sua religione fosse accostata alla violenza e al disordine, quindi combattè strenuamente questo tipo di rivolte. Dalle rivolte popolari e sociali si passò alle guerre politiche, alle vere e proprie guerre politiche. Nel 1531 i principi protestanti fondarono la Lega di Smalcalda per opporsi ai principi rimasti cattolici, rimasti fedeli a Carlo V. Ci fu una guerra che durò più di vent'anni e si concluse nel 1555 con la pace di Augusta, che stabiliva il principio cuius regio eius religio, cioè ogni stato doveva professare la religione del principe che vi governava. Quindi i principi erano liberi di scegliere tra religione cattolica e protestante. I sudditi di ogni regione tedesca dovevano seguire la religione scelta dal proprio principio oppure emigrare. Quindi la pace di Augusta determina la divisione della Germania in stati cattolici e stati protestanti. La rivolta protestante non si fermò alla sola Germania, si diffuse prontamente nell'Europa centrale e nell'Europa settentrionale, mentre l'Europa orientale e l'Europa sud-occidentale rimasero fedeli al Papa. In Svizzera prima Zuigli a Berna e poi Calvino ripresero la dottrina protestante elaborandola al loro modo. Zuigli venne presto sconfitto dai cattolici e fu assassinato. Mentre Calvino prendendo spunto dalla dottrina luterana diceva che è vero che la salvezza eterna si ottiene solamente per grazia di Dio, cioè solo se Dio vuole, ma che l'uomo col proprio lavoro può mettersi in luce agli occhi di Dio e attraverso i suoi risultati nel campo lavorativo, nel campo imprenditoriale, può dimostrare di essere ben voluto da Dio. Infatti a questa religione aderirono presto imprenditori e commercianti che dalla religione cattolica non erano tanto ben visti perché avevano a che fare con il denaro. Questa variante della religione protestante si diffuse presto nel sud della Francia dove i calvinisti vennero chiamati Ugonotti e già nel 1520 costituivano il 20% della popolazione francese. In Italia e in Spagna la forte presenza della Chiesa Cattolica impedì il diffondersi della Chiesa Riformata. Un discorso a parte merita l'Inghilterra. Fino ad allora il re d'Inghilterra era stato sostanzialmente fedele alla Chiesa e si era proclamato difensore della Chiesa. Finché Enrico VIII Tudor che non guardava di buon occhio l'arricchimento dei vescovi inglesi prese a pretesto il fatto che il Papa Leone Decipo non approvava il suo divorzio da Caterina d'Aragona alla sua moglie parente tra l'altro di Carlo V e proprio per questo il Papa non consentì al suo divorzio per emanare l'atto di supremazia con il quale rompe con la Chiesa di Roma proclamandosi Capo Supremo della Chiesa di Inghilterra e la nascita della Chiesa Anglicana attraverso la quale verrà edito il Book of Common Prayer il libro delle preghiere comuni di orientamento luterano solo l'Irlanda rimase cattolica con questo si conclude la prima parte di questo capitolo che ci dà un'idea dell'evoluzione della riforma luterana nella seconda parte del capitolo vedremo la contro-riforma cattolica cioè quale rimedi porrà la Chiesa a questa emoragia di fedeli di fedeli